Allora, questa sera volevo parlarvi della Sharing Economy, prendendo spunto ancora una volta da una di quelle riviste che da tempo vi dico seguitela, abbonatevi, leggetela perché è una delle riviste a mio modestissimo avviso tra le migliori riviste nel panorama italiano. Vi ho detto di questa, vi ho detto di altra economia, altro consumo, un attimo che per par condicio vi faccio vedere un attimo anche le altre perché come si dice chi trova un amico trova un tesoro e chi trova invece una buona rivista ne trova dieci, cento, mille di amici. Questa è altra economia, questa è altro consumo, le prime due sono riviste generaliste mensili che approfondiscono in ogni numero 3, 4, 5 materie e le approfondiscono bene in maniera che si possa avere un quadro abbastanza preciso. Altro consumo è una cosa diversa perché è la rivista di un'associazione di consumatori, ce ne sono molte altre associazioni di consumatori sicuramente valide, Altro consumo, la rivista ha la caratteristica che spiega molto bene, fa test su test su test su test, mettendo a confronto di un determinato prodotto le varie marche, quindi dai prodotti alimentari, dai prodotti per l'abbigliamento, a elettrodomestici, a un po' tutte le categorie di prodotti, fa test e spiega la teoria di base per capire quali sono i criteri che determinano il fatto che un prodotto sia più o meno buono. Allora, stavo dicendo valori sharing economy, sharing economy è nata molti anni fa, prima che le multinazionali del settore ci si buttassero sopra e si sono buttate sopra perché hanno capito che innanzitutto per loro era un buon modo per fare un lavaggio per mostrarsi più innovative, più fresche, più social, più tutto. Però molte sono le ombre soprattutto per quanto riguarda determinate categorie, determinate aziende. Innanzitutto una cifra, attualmente il valore della sharing è stato valutato da PricewaterCoopers, che è una delle più note agenzie mondiali di analisi, che la stima in questo momento in 15 miliardi di dollari come fatturato annuale, contro i 240 miliardi di dollari del fatturato complessivo del segmento tradizionale con cui si affittano macchinari, libri, DVD, alberghi, automobili, quindi 15 contro 240, quindi capite che i margini di crescita sono molto ampi. Però l'ombra principale che vi dicevo per quanto riguarda le nuove realtà multinazionali, sono il fatto che il profitto è assai poco condiviso. È assai poco condiviso il profitto e innanzitutto queste grandi compagnie multinazionali utilizzano i benefici e le opportunità dei paradisi fiscali esattamente come qualsiasi altra compagnia. Per cui da questo punto di vista sono ben poco sharing, sono ben poco, condividono ben poco. La sharing economy nasce dalla necessità dovuta al calo del reddito pro capite, dal calo della ricchezza, quello che da anni gli economisti ripetono attenzione che la redistribuzione del reddito sta peggiorando, sta peggiorando, diventa sempre, si allarga sempre di più la differenza tra coloro che guadagnano moltissimo e coloro che guadagnano poco e stanno scivolando verso i redditi più bassi. Quindi nasce come una risposta spontanea a una vita sempre più precaria, in cui il possesso stabile, definitivo di un bene è sempre merce più rara nel senso che non ce la si può permettere. Non ci si può permettere un'auto sempre, costantemente, non ci si può permettere di viaggiare, il lavoro diventa sempre più difficile da trovare e quindi ecco che io mi spremo le meningi e trovo dei sistemi di condivisione. Allora diciamo subito quello che ho messo sul titolo, le commissioni, Uber si tiene il 20% di commissione, il 20%, mette sia a disposizione la sua piattaforma tecnologica, scusate, ormai c'ho l'Apsus che quando dico piattaforma mi viene sempre in mente petrolio e gas, l'Apsus freudiano. Uber si tiene il 20% per ogni tragitto che fate con questa piattaforma, non è poco, non è poco. Airbnb si tiene tra il 16 e il 12%, altre iniziative di sharing arrivano a tenersi anche il 30% di commissione sul bene che viene, tra virgolette, condiviso. Molte di queste soluzioni portate avanti dalle multinazionali dello sharing sono illegali, ma la piattaforma che le porta avanti, la società, la società che le porta avanti sceglie deliberatamente di proseguire perché alla fine dei conti il costo di eventuali multe, diciamo così, dei malefici è inferiore al costo dei benefici. Cioè è un ragionamento ponderato, dice io tiro avanti anche se la cosa è illegale, in alcune circostanze, perché inizierò intanto un processo di negoziazione con la politica, con i legislatori e poi perché molto spesso le multe, i malefici appunto sono inferiori rispetto ai benefici. Allora chiaramente il problema è sempre lo stesso, consentire alle imprese di, o meglio, il rischio di consentire alle imprese di muoversi senza regole è uno degli estremi. Dall'altro è quello di regolare troppo velocemente e quindi commettere troppi errori. In Italia c'è una proposta di legge, c'è una proposta di legge che è stata depositata alla Camera dei Deputati lo scorso 27 gennaio propone di tassare il 10% sino a redditi sotto i 10.000 euro, sopra i 10.000 euro gli introiti vengono considerati redditi veri e propri. Quindi questo è il sunto di una proposta di legge che giace alla Camera dei Deputati. Il nodo cruciale è sempre lo stesso, distinguere un'attività professionale da un'attività sporadica, perché è chiaro che le due realtà, le due situazioni sono profondamente diverse. Un conto è che io una volta al mese decida di affittare una stanza perché magari vado in vacanza da un'altra parte o faccia determinate attività appunto sporadicamente perché non è la mia professione, non è ciò che mi crea il reddito principale su cui mi sostengo. Un conto è fare invece l'operazione in maniera professionale, quindi diventa fonte di reddito. Se è una fonte di reddito, ragionamento mio personale banale, non vedo perché non dovrei tassarlo come qualsiasi altra fonte di reddito. Allora, le realtà di Sharing Economy stanno crescendo di valore in maniera impressionante. Uber, in primis, anche Airbnb ormai ha un tasso di crescita del 90% all'anno e dei ricavi che sono superiori alle grandi compagnie storiche di alberghi come Lilton, Marriott, quindi in realtà virtuali decisamente potenti a livello economico. E chi sono i protagonisti? Come al solito, la California, gli Stati Uniti. La maggior parte dei nuovi giganti di queste tipologie di business hanno sede nella California. Tra l'altro la Silicon Valley, sapete, la zona geografica che raggruppa le principali aziende di informatica e di tecnologie legate al mondo dei computer, ha un reddito medio pro capite che è due volte e mezzo più elevato rispetto al reddito medio USA. A dimostrazione appunto del fatto che c'è una concentrazione sempre maggiore di ricchezza in poche categorie di lavoratori, sicuramente gli esperti di informatica e tutto il business legato ai computer e all'informatica. Un sintomo del fatto che il business dello sharing sta crescendo in maniera rapidissima ed è molto attraente per i capitali di chi vuole investire, è dovuto al fatto che c'è in atto uno spostamento dei massimi dirigenti che dalle grandi istituti finanziari passano alle compagnie tecnologiche informatiche. Per esempio, un dirigente di Alphabet, che è un grosso istituto finanziario, è passato a Google. Altri dirigenti sono passati a Twitter, altri sono passati ad Amazon, Uber. Quindi c'è un, vi faccio vedere la figura, come si dice una figura vale più di mille parole, i manager, eccoli qua, i top manager stanno scendendo quelli che sono impiegati nel mondo finanziario e stanno salendo quelli che sono legati al mondo della tecnologia. Quindi è un ennesimo affare speculativo su cui si stanno buttando molte grandi compagnie. Un'ultima cosa volevo dire prima di passare, anzi no, passiamo invece alla vera sharing, perché la falsa sharing l'avete già capita, quando è un business, quando io devo pagare per l'uso di un determinato oggetto, per una condivisione, per un viaggio in auto, eccetera. E dietro c'è una compagnia professionale che fa di questo sharing, fa di questa condivisione, fa il suo business principale da cui ricava reddito. Avete capito che questo non è condivisione, questo è semplicemente commercio. Per carità, in molti casi sarà legalissimo, ma è semplicemente commercio. Allora, in Italia esistono da moltissimo tempo molte alternative, molti progetti di condivisione. E il primo, quello di cui io ho già molto tempo fa di pubblicità e continuo a farla, è la condivisione del bene che più in assoluto manca a tutti noi. È la condivisione del tempo, tempo che manca sempre di più a tutti noi. Allora, ecco che da molto tempo, scusate, esistono le banche del tempo, le banche del tempo. Vi faccio vedere la mappa delle banche del tempo in Italia. Vediamo, 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 se riesci a metterla a fuoco. Eccola qui. Questo è il sito, è il sito, è il sito, oh signore, eccolo qua, è il sito Banche del Tempo, www.associazionenazionalebdt.it, www.associazionenazionalebdt.it.it, qui oltre a tantissime informazioni, come crearle, come gestirle, le migliori attività, i blog, eccetera, eccetera, c'è anche proprio la mappa, la mappa che si può zoomare. Facciamo l'esempio di Roma, andiamo a vedere Roma. Ecco, tutte le bandierine che vedete sono banche del tempo. Torniamo su e questa ritorna a essere la mappa italiana. Ecco, la banca del tempo è una delle principali risposte, soluzioni, pratiche, che esistono da moltissimo tempo, che servono per recuperare il bene che più ci manca, il bene più prezioso che manca a tutti noi, che è proprio il tempo. Per cui, visitate questo sito, informatevi. Io sono iscritto a una banca del tempo da 6-7 anni, avevo anche iniziato a utilizzarla, poi sono arrivato qui a Roma, quindi diciamo che da 4 anni, da quando ho iniziato la prima campagna elettorale, a 4 anni e mezzo, poi non sono più stato attivo. Però, un paio di servizi li avevo fatti, un paio di scambi di tempo li avevo fatti e so che l'iniziativa continua a funzionare. Comunque, qui avete tutte le informazioni che volete. Poi, io vi ho già messo a disposizione, anche in questo caso da diverso tempo, perché saranno 5-6 anni, questo libro, scritto dai bravissimi Marco Boschini e Michele Dotti, che 4-5 anni fa aveva fatto il punto della situazione inserendo tutta una serie di esperienze virtuose, in molti casi legate anche alla condivisione, non necessariamente, ma comunque in molti casi legate anche alla condivisione. Qui trovate i riassunti. Vedete, ogni capitolo, se ci cliccate sopra, è già riassunto, quindi la lettura è abbastanza veloce. Dopodiché, l'altra cosa principale che volevo farvi vedere è che... Eccole qua, questa era l'altra cosa principale, che da un paio di mesi a questa parte io ho fatto una serie di video, in questo caso proprio su esperienze di condivisione in tutta Italia, e questi sono dati piuttosto recenti, cioè i dati che sono illustrati in questi video, in cui si fanno nomi e cognomi di tutta una serie di iniziative virtuose, sempre italiane, sempre italiane, sono piuttosto aggiornati. Ecco, qui ho fatto sette video finora, andrò avanti perché non ho ancora finito, e qui trovate tutta una serie di esperienze virtuose, locali, italiane, che molto spesso sono vero sharing, sono vera condivisione, da condividere il terreno per fare un orto appunto condiviso, da condividere le spese per riqualificare un edificio per poi condividerlo tutti assieme, da decine di altre iniziative in cui più persone si mettono assieme, e andiamo avanti ancora con altre informazioni utili, sempre nel mio sito tracce, trovate anche un capitolo legato completamente alla condivisione, e lo trovate nella sezione risparmio, nella sezione risparmio c'è tutta una serie, scusatemi venendo a ridere perché ho letto il commento di Enzo Basile, ma non penso di essere così importante da meritare un boicottaggio da parte del PD, comunque dicevo sul sito del risparmio trovate tutta una serie di indicazioni pratiche di risparmio, poi ho messo anche una sezione condivisione con una serie di siti che funzionano, e perché dico funzionano? Perché se voi cercate su internet, su Google, iniziative di sharing italiane, ne troverete moltissime, il problema è scegliere quelle che funzionano veramente, quelle che non sono state abortite tempo fa, quelle che non hanno mai raggiunto una massa critica sufficiente per decollare veramente, quindi qua chiedo l'aiuto di tutti, se conoscete altre iniziative di sharing che non sono elencate in questo mio reparto di condivisione, magari se mi iscrivete su Facebook o su Gmail e io le aggiungo, ecco dicevo che questa è la mia sezione risparmio con tutta una serie di capitoli dedicati appunto alle possibilità di risparmio pratico e quindi eventualmente avete altro materiale qui. Sicuramente una delle possibilità principali che è diciamo al confine tra sharing e risparmio pure semplice è la sezione gruppi di acquisto. Nei gruppi di acquisto si condivide l'acquisto si condivide l'acquisto di determinate merci o servizi. Questa è una delle mie pagine più visitate nel senso che qui ci sono i gruppi di acquisto per l'energia elettrica, per il gas da riscaldamento, per le auto elettriche sia ibride che elettriche 100% che le auto a gas di cosiddette bifuel quindi a metano o GPL. Ci sono gruppi di acquisto per tutto ciò che riguarda la casa il risparmio energetico casalingo quindi dai pannelli fotovoltaici a solare termico, agli infissi, alle pompe di calore, eccetera eccetera. C'è tutto il discorso di gruppi di acquisto solidale che ne ho parlato in altre occasioni trovate i video appunto nella sezione buone pratiche che vi ho descritto prima. Ci sono tutta una serie appunto di possibilità di condivisioni come per esempio appunto le cooperative solari, le cooperative elettriche, le cooperative elettriche, le cooperative popolari elettriche in cui la cooperativa è formata da cittadini normali. Vado avanti con una carellata, questa è un'ultima novità tedesca che magari speriamo che qualcuno voglia replicare in Italia, un'idea molto semplice, in tutte queste città che vedete anche in questo caso mappate ci sono dei frigoriferi condivisi per le strade, su degli angoli protetti ovviamente, non sono alle intemperie diciamo ma sono in gruppi, sono in posti protetti. Qui cosa fanno? Ci sono dei frigoriferi in cui ciascuno può mettere molto semplicemente della merce alimentare che altrimenti butterebbe via. Butterebbe via non perché è scaduta ma perché magari deve andare in trasferta per lavoro, deve andare in vacanza, ha un viaggio, un imprevisto e deve spostarsi. Insomma per vari motivi si ritrova nel frigo merce assolutamente edibile quindi assolutamente non scaduta che però lui non consumerebbe più e quindi anziché buttarla via e sapete quanta roba anche noi buttiamo via ancora buona da mangiare, anziché buttarla via li mette in questi frigoriferi condivisi. Quindi una cosa banalissima che si può fare si può replicare anche qui in Italia. Se lo fanno i tedeschi che sono più ricchi di noi, scusate ma sono più ricchi di noi, possiamo farlo tranquillamente anche noi. A Hermes Zigoni rispondo velocemente che non posso mettermi qui ho fatto diversi video su questo. Hermes, trovi la mia sezione gruppi di acquisto appunto l'ho mostrata prima la rimostro un attimo sul mio sito eccola qui e poi trovi un video che parla proprio di gruppi d'acquisto nella mia sezione buone pratiche eccola qua sulle buone pratiche ho fatto una puntata proprio sui gruppi di acquisto in questo caso solidale ma parlo anche dei gruppi di acquisto tradizionali quindi Hermes se ti interessano ti invito a vedere questo video e a leggere questa sezione del mio sito. Dunque vi ho fatto vedere questa esperienza tedesca come vi dicevo prima ci sono dei siti come questo che è uno dei principali collaboriamo che listano tutta una serie di iniziative di sharing più o meno vero cioè nel senso sharing in cui c'è un operatore che guadagna e questo per me diciamo è falso sharing nel senso che è semplicemente un'iniziativa commerciale e invece come questo vedete baratto in cui non c'è uno scopo di lucro quindi vi chiedo una mano anche a voi di cercare queste iniziative e poi di segnalarle in maniera che io continuo a listarle vedete ci sono anche diversi servizi su altri portali il problema ripeto è trovare iniziative che effettivamente funzionino un'iniziativa che funziona da molto tempo e che non è esattamente una condivisione è quella delle monete complementari il Sardex è l'iniziativa probabilmente più famosa è forse una di quelle che funziona benissimo non so se è quella che funziona meglio ma sicuramente è una di quelle che funziona benissimo e sulle monete complementari se cercate su youtube trovate un nostro convegno fatto a Montecitorio nostro inteso dei 5 stelle in cui si parla completamente dedicato appunto alle monete complementari quindi detto questo io penso di avervi detto le cose principali questa è un'altra iniziativa locale sulle condivisioni degli spazi vi esorto ancora una volta per l'ennesima volta entrate in un gruppo di acquisto solidale associatevi ad un'associazione di consumatori perché sono soggetti che fanno gruppo che fanno massa critica che riescono in un caso le associazioni di consumatori a tutelare i nostri diritti e nel caso dei gruppi di acquisto solidale mi permetto di dire i gruppi di acquisto solidale è tratti in un circuito di persone molto sensibili mediamente più preparate mediamente disponibili a condividere con voi non solo gli acquisti ma anche la conoscenza che è la cosa più importante e quindi detto questo vi do appuntamento alle prossime iniziative che farò e vado a mangiare perché ho fame quindi finisco con una botta di saggezza grazie a chi mi ha seguito e alla prossima buona domenica a tutti e buona serata grazie a tutti